Ciao a tutti, in questo video voglio parlarti del potere della persuasione. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai abbonandoti al canale potrai ricevere, diciamo, partecipare agli abbonamenti base nei quali potrai dare un sostegno al canale e partecipare alle live e poi potrai partecipare all'abbonamento seminari online e con l'abbonamento seminari online potrai partecipare ai miei seminari online e i miei seminari online ti consentiranno di sviluppare delle capacità di seduzione, di persuasione sempre più utili e raffinate. E veniamo dunque al potere, diciamo così, della persuasione. Allora, usare il potere della persuasione significa usare le capacità mentali per creare parole e sentimenti in grado di convincere le persone a fare delle cose che normalmente non vorrebbero fare. Ovviamente la capacità di persuasione, intesa anche come capacità di sedurre, non si basa soltanto su una persuasione della parte logica, ma soprattutto sulla capacità di interagire a livello emotivo. Quando le emozioni sono forti, positive o negative, la persona è sicuramente più facile da persuadere. Quindi quando una persona vive uno stato emozionale elevato, sia nel negativo perché è triste, stanco, solo, o sia nel positivo perché è felice, gioioso, le sue difese logico-razionali sono comunque abbassate e quindi questa persona è più facile da persuadere, più facile da convincere. Anche quando una persona è bisognosa, è più facile da sedurre rispetto a una persona che ha una forte autostima. Questo devi sempre tenerlo presente. Nella seduzione le persone si fanno imbrigliare in situazioni con relazioni sbagliate quando sono bisognose. Una persona bisognosa è più facile da sedurre che una persona con forte autostima. Questo devi tenerlo presente, è un fatto fondamentale. Le persone che vivono situazioni, diciamo, di negatività, una vita negativa, beh, sono più facilmente preda di persone, preda della pubblicità, ma anche preda di narcisisti, di persone che invece hanno una forte autostima, sono fortemente centrati e si lasciano influenzare poco, pochissimo, da questa tipologia di situazioni, da questa tipologia di persone. Quindi teniamo presente che il centro della seduzione, il centro della persuasione, è proprio quello di andare a destrutturare la parte logica. Lo stesso riguarda anche le religioni. Persone che sono in situazioni di negatività, hanno vissuto, o stanno vivendo malesseri, stanno vivendo problemi, sono più facilmente preda delle religioni o delle sette, ma non c'è nessuna differenza tra religione e sette. Uno dice che la religione è una cosa buona, è una cosa sbagliata. Non c'è nessuna differenza se non il numero degli adepti, diciamo. Mentre nella religione cattolica o cristiana in generale, ci sono un miliardo, un miliardo e mezzo di cristiani, magari ci sono sette con due, trecento persone, quindi quelle vengono chiusi a dire cattive, ma in realtà cambia poco fondamentalmente. L'unica differenza è il numero di persone. Le persone che hanno paura, per questo che le religioni incitano la paura, ad esempio la paura della morte, e ti offrono una soluzione alla paura della morte. Perché cosa ti vende, tra virgolette, una religione? Ti vende, diciamo, la possibilità di superare una paura che è naturale nell'essere umano, che hanno tutti, ed è la paura della morte. E quindi, che sia un leader carismatico, che magari viene ritenuto pericoloso, ma che sia anche un, come dire, un sacerdote, un vescovo, un papa, chi per esso, fanno comunque tutti leve in modalità simili sui bisogni degli esseri umani e su persone che non sono riuscite a soddisfare in qualche modo i loro bisogni o hanno delle paure. In più, scaturisce anche un meccanismo di coerenza, per cui se una persona entra a far parte di una congregazione religiosa, di un assetto, quello che è, inizia a mettere energie in questa situazione, come nell'innamoramento, più energie mette, più si coinvolge. Ma quindi il fulcro della, per, diciamo, persuadere o per, certo, c'è la persuasione logica, è molto importante, la persuasione logica è molto importante, la persuasione logica è fondamentale, ma la cosa principale, invece, è proprio quella di gestire l'emotività. Spesso, poi, una volta che le persone iniziano a fare un passo in una direzione, il bisogno di coerenza, il bisogno di coerenza li spinge ad accettare e a fare sempre di più parte dell'organizzazione. Per questo, in tutte le, diciamo, congregazioni religiose, eccetera, ci sono dei rituali per legati, che siano il battesimo, che siano la comunione, che siano altri rituali. Adesso sto parlando di quelli cattolici, ma qualunque siano i rituali, più cose fai, più ti prendi degli impegni, più sarai collegato, no? E questo vale anche per le sette. Nelle sette, i vari guru di turno fanno scrivere agli adepti i loro obiettivi, gli fanno scrivere un programma, in modo tale che si prendono formalmente degli impegni. E quando si prendono formalmente degli impegni, tendono poi a diventare coerenti con il rispetto di questi impegni. ovviamente queste erano state effettuate queste tecniche anche durante la guerra con i prigionieri, inducendo i prigionieri a, diciamo, a denunciare poi il proprio paese, ma questo viene fatto in condizioni precarie. Un'altra tecnica che utilizzano spesso che utilizzano spesso i seduttori è un po' la mentalità del gregge. Cioè l'essere umano è un essere che è stato domesticato, prende caratteri neotenici, quindi tende a essere domesticato e si comporta come appartenente ad una mandria, appartenente a un gruppo. Le persone tendono naturalmente a rispecchiare il comportamento delle persone che vedono intorno a loro. Quindi tu seduci un certo numero di persone, lo convinci a fare qualcosa e automaticamente questi indurranno altri a fare la stessa cosa. Ma questo sono anche dei giochini divertenti. Metti dieci persone a guardare il cielo dove non c'è niente. Molti che passeranno si metteranno a guardare il cielo. Ecco, quindi questo è, diciamo, è un po' un esempio è un po' un esempio che viene che viene fatto diciamo che viene utilizzato nella seduzione. Un'altra caratteristica è quella dell'autorità, no? Un altro principio di persuasione è quella di credere all'autorità. Quindi normalmente ci sono persone che si presentano come portatori di un'autorità magari perché hanno un uniforme e infatti molte persone vengono anche truffate poi da questo punto di vista, no? Perché sono spinte a credere che chi abbia un uniforme e chi ricopre un ruolo di autorità abbia la verità in tasca e non mettono assolutamente in discussione quello che gli viene detto, Quindi queste sono tutte tecniche che contribuiscono alla persuasione. Altra cosa è l'empatia. Le persone vogliono essere apprezzate, vogliono interagire positivamente con le altre persone, quindi persone seduttive magari fanno apprezzamento, sono persuasive, sono estremamente simpatiche. La simpatia è un'altra delle tecniche che può persuadere, che può convincerci a fare delle cose che normalmente non faremo. Ecco, queste sono tutte strategie diciamo che vengono utilizzate da chi vuole persuadere, da chi vuole coinvolgere, da chi vuole convincere, andando a destrutturare in qualche modo le scelte logico e razionali. Stai attento se vedi che qualcuno si comporta in questo modo nei tuoi confronti perché probabilmente hai a che fare con una persona che in qualche modo vuole manipolarti o persuaderti a fare qualcosa che di tua iniziativa probabilmente non faresti. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale e attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra abbonamenti base per dare un sostegno al canale o l'abbonamento seminario online per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente che credo possano contribuire a migliorare la tua percezione delle relazioni sentimentali affettive e la gestione delle tue emozioni. Ciao a tutti! Grazie a tutti!